È molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l'opposizione di una parte di quelle istituzioni che dovrebbero aiutarti a rispondere ai problemi di questa nazione. Penso che la decisione dei giudici di Roma sia una decisione pregiudiziale, lo dimostra il fatto che alcuni di questi giudici avevano criticato l'accordo con l'Albania ancora prima di entrare nel merito. Temo che debba anche colpire il fatto che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico. Dopodiché la questione non è l'Albania, la questione è molto più ampia, perché in buona sostanza quello che i giudici dicono è che non esistono paesi sicuri, quindi comunico ufficialmente che il problema non c'è in Albania, il problema è che nessuno potrà essere mai più rimpatriato, il problema è che tu non puoi respingere la gente, il problema è che tu non puoi fare nessuna politica di difesa dei tuoi confini. E quindi spero che mi si dica anche poi come si risolve, nel senso spero che mi si dica poi come si gestisce l'ordine pubblico, spero che mi si dica poi chi pagherà per i miliardi di accoglienza che ci dovremo caricare, spero che mi si trovino anche delle soluzioni, perché io sono quella che poi deve trovare le soluzioni e infatti troverò una soluzione anche a questo problema. Perderemo ancora del tempo, ma ho già convocato il Consiglio dei Ministri lunedì anche per risolvere questo problema, perché intendo andare avanti. Gli italiani mi hanno chiesto di fermare l'immigrazione illegale, fermerò, farò del mio meglio per limitare l'immigrazione illegale di massa, mi dispiace che in un momento nel quale tutta l'Europa guarda con interesse a qualcosa che sta facendo l'Italia, noi tentiamo come sempre di metterci da soli i bastoni tra le ruote, ma è un tema che si risolverà presto.